Educare al rispetto del mare in modo ecosostenibile Un'opportunità Fare cose consuete in un modo nuovo, in un modo diverso Questo periodo saper ascoltare Utilizzare i giochi come strumento e occasione per raccontare storie Portare le tecnologie dell'idrogeno all'interno dell'economia del mare Dare valore ai sentimenti digitali Parlare il linguaggio dei dati Non è solo tecnologia ma è anche portare nel futuro i nostri valori sociali e cooperativi Innovare sì, ma facendo rete è meglio Grazie a tutti Grazie a tutti